bentornati ciao questa merda è earth life così diretto non l'avrei detto neanche io avrei detto una grande merdaccia che più carino questa è una merda allora per 12 euro prima che questo gioco nell'anno prossimo vada a free to play comunque se l'avete comprato prima ho fatto io a 12 euro da dicembre non lo pagate più in realtà vi dovrebbero pagare loro per giocare è un è un sandbox game science fiction sandbox vuol dire che non ci sono livelli dovete avete dei punti da mettere nelle abilità in sostanza è una scusa per questi qua per non darvi manco la quest per avere un mondo vuoto che però lagga da paura laggo così tanto che passando da una hd 46 xx a una 57 xx hd 2 schede video quindi una la seconda piuba della prima altrimenti sarebbe una fregatura laggo di più è una punizione hai comprato una scheda di merda no secondo me laggavo pure nell'altro gioco solo con quella scheda solo che non lo volevo ammettere a me stesso probabilmente ragione c'è un altro solo gioco dai ci avrei giocato anche cinque minuti però no no cara amica mia notare le statistiche ho giocato ho fatto in giro dai senza laggare no laggando come un maiale in questo modo in realtà per non laggare avevo tolto questi effetti super rubi delle lucette insomma non mi sembra di laggare così tanto però sai il mondo è un posto misterioso dai corri pure da jogging guardate e fa cacare io non è che vorrei prendere troppo tempo in questo gioco se vi piace per l'amor di dio voi come spendete questi soldi mi interessa per carità di dio ma come vi fa piacere una cosa del genere non per il tipo di gioco per come è fatto signore mio parole io avrei buttato il computer per terra il monitor almeno nel mio tentativo di farmi piacere questo gioco ho anche fatto un po di quest per scoprire due cose essenzialmente che il mondo è praticamente vuoto che per camminare sembra un imbecille devo mettere il tab ed esattamente scusa cosa ti offrono cosa ti vendono se è vuoto no lo so i bulgari di aldo e giovanni giacomo che appunto lavorano a questo gioco non ho idea di cosa mi offre questo poi credo che abbia una quest guardaci clicco giusto per farvi vedere che non mi sto prendendo per il culo viene fino da ruttare esprimiti con tutto te stesso mi dà un'altra quest guardate è di una noia infernale sì ma ci metti anche tre ore per parlare con uno fraps mi dice che ho 7 frame per secondo 8 adesso 8 mai successo in vita mia sei fortunato 8 tra 7 e 8 ho una scheda più uba e faccio più schifo a laggare adesso controlliamo vediamo se laggo di meno se abbassare mettiamo medium va bene tutto ok ma con un computer ubo scusami tanto devi abbassare tutte le robe ecco adesso probabilmente si è bloccato per eterna posizione mia così imparo a toccare stai robe considerando che te l'ha fatto anche prima esatto vabbè però è funzionale alla recensione che è una merda ci vogliamo dire semplicemente guardate ragazzi non ci giocate fate quello che vi pare comunque abbiamo anche speso troppo tempo con questo gioco e anche troppi dei mali te lo posso assicurare una bruttezza abissiale si bloccava anche prima comunque con la caschetta quindi è proprio una merda di suo non ci giocate nemmeno quando è first to play cioè evitatelo questo è come grand fantasy il grand fantasy al science fiction infatti questo è peggio fa veramente cacare non si è bloccato immagini il filmato funziona benissimo fa schifo il giochino il mouse si muove fa proprio schifo ciao gente scusateci non lo facciamo più grazie a tutti